Rosi rosse per te L'ho comprato stasera Mi minore, annulare medio, entrambe al secondo tasto rispettivamente della quarta e quinta corda La strofa ragazzi è così Na 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 re maggiore Na 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 Mi minore na na Uno, un due a vuoto suono un due Carissimi amici, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video Nel tutorial di oggi studieremo un grande classico della canzone italiana Sto parlando di Rose e Rosse di Massimo Ragneri La versione originale, quella che sentite registrata in studio, è in tonalità di fan maggiore Ma siccome ci sono alcuni barret e dal punto di vista del canto diciamo che è un po' alta Quindi diciamo non è comodissima da cantare Io vi spiegherò la canzone prima in re maggiore Così non ci saranno barret, non ci servirà il capodasto mobile e sarà una tonalità più comoda per cantare la canzone Dopo, verso la fine del video, vi farò anche vedere come suonare la canzone in tonalità originale Come la versione di Massimo Ragneri, sempre con gli stessi accordi che vi ho spiegato ma semplicemente utilizzando il capodasto mobile Prima di cominciare a studiare la canzone, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube E di attivare anche la campanellina, così vi arriveranno le notifiche ogni volta che farò uscire nuovi video Per quanto riguarda la struttura del brano, sostanzialmente ci sono soltanto tre sezioni Che ovviamente poi si ripetono, e sono la strofa, il bridge e il ritornello Gli accordi che incontreremo sono soltanto quattro Gli accordi che incontreremo sono re maggiore, medio e indice, entrambe al secondo tasto rispettivamente della prima e terza corda Anulare, al terzo tasto della seconda corda Mi minore, annulare e medio, entrambe al secondo tasto rispettivamente della quarta e quinta corda Sol maggiore, annulare e medio, entrambe al terzo tasto rispettivamente della prima e sesta corda Indice, al secondo tasto della quinta corda La settima, annulare e medio, entrambe al secondo tasto rispettivamente della seconda e quarta corda Per quanto riguarda la mano destra, potete utilizzare questo strumming pattern Allora dovete pensarlo in quattro pulsazioni Sulla prima pulsazione fate una pennata verso giù Sulla seconda pulsazione fate una doppia pennata Una verso giù e una verso su Sulla terza pulsazione la pennata verso giù la fate a vuoto Senza suonare le corde Mentre fate una pennata effettiva verso su E sull'ultima pulsazione fate nuovamente due pennate effettive Una verso giù e una verso su Quindi Uno Un due A vuoto Suono Un due Allora iniziamo a vedere la struttura di ogni sezione della canzone Cominciamo dal ritornello Il quale è così Per due volte si ripete questo giro di quattro accordi Re maggiore e solo La settima Na 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 re maggiore E di nuovo Re maggiore e solo La settima Na 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 re La strofa ragazzi è così Na 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 re maggiore Na 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 La settima Ancora re maggiore Na 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 Sol Na 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 re La settima Na 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 re D'amore non si muore, non mi so spiegare Perché muoio, perché? Da quando ti ho lasciato, sarà perché ho sbagliato Ma io vivo, io ormai non c'è più strada Che non mi porti indietro, amore sai perché? Perché? Il cuore del mio cuore, non ho altro che te Il bridge è così Re maggiore La settima Na 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 re Forse la nuve rossi non si usano più Ma questi figli sapranno la raddine Rosi, rosi, perché? Per eseguire il brano in tonalità originale, cioè nella stessa versione di Massimo Regneri Basterà applicare il capo d'asso mobile al terzo tasto della chitarra Utilizzando praticamente gli stessi accordi con la stessa struttura che abbiamo visto finora Rosi, rosi per te Sentite, è più alta Eccetera eccetera Ok ragazzi per oggi è tutto Spero che questo video vi sia piaciuto Se così fosse mi raccomando lasciate un like Commentate qui sotto E mi raccomando condividete il video Perché con le vostre condivisioni mi aiutate a far crescere il canale Io come sempre vi ringrazio tantissimo per la visione E vi aspetto al prossimo video Ciao!